buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa sessione di domande e risposte tvs oggi a grande richiesta voglio andare a farvi vedere come impostare nel migliore dei modi il vostro account demo ci sono arrivate tantissime mail da parte vostra a traderschiocciolalfa4wall.com e rinnovo l'invito a tutta la community di scriverci con i vostri quesiti le vostre domande i vostri dubbi inerenti alla trader workstation di interactive brokers e al broker stesso oggi vi voglio fare vedere come andare a creare un account demo con i fiocchi come si fa allora innanzitutto andiamo sul nostro sito web sito di assistenza brokers punto it condivido il mio schermo così li guido in tutti i passaggi qui nel menu in alto a destra troviamo interactive brokers e sulla sinistra trader workstation tvs demo eccoci nella guida all'installazione della piattaforma tvs passiamo subito a quelli che sono gli step step 1 per accedere alla piattaforma hai bisogno delle credenziali d'accesso cliccando su crea le tue credenziali ecco che verrete rimandati sulla pagina di interactive brokers all'interno della prova gratuita non si va assolutamente ad aprire un conto reale ma una prova semplice gratuita andiamo a creare un nome utente e una nostra password inserendo l'indirizzo mail un nome utente dobbiamo rispettare quelli che sono i requisiti che interactive ci chiede quindi possiamo andare ad inserire quelli che sono ad esempio samuel 977 e vediamo se interactive ce lo accetta in questo caso ce lo accetta quindi può essere un nome utente valido andiamo anche a inserire una password che deve soddisfare quelli che sono i requisiti anche qui e li troviamo sempre qua sotto a confermare la nostra password indicare il paese l'area geografica quindi il nostro paese di residenza in questo caso italia e le preferenze di marketing vi suggerisco di mettere no tanto interactive brokers vi chiederà comunque di aprire un conto ogni tanto ma non vi daranno assolutamente fastidio neanche nel caso in cui mettiate sì poi una volta creato quelle che sono le vostre credenziali mi raccomando segnate vele su carta in modo tale da non dimenticarse le perché interactive non ve le manderà via mail per sicurezza quindi insegnate vele subito su un pezzo di carta e ritornate direttamente su quella che è la nostra guida per scaricare direttamente la trader workstation una volta scaricata la piattaforma demo ovvero il software andiamo a scaricare anche cliccando su scarica i settaggi quelli che sono i nostri settaggi aggiornati quindi quelli che vedete ogni sera all'interno della nostra diretta non vi faccio fare lo step numero 3 quindi quello di importare i settaggi perché lo faremo insieme vado a chiudere un attimino la piattaforma così la riapriamo insieme e vi faccio vedere anche come impostare la lingua in italiano quindi vado a fare una ricerca all'interno del mio computer trader workstation aspetto che si apra il software e posso decidere se entrare in piattaforma reale o in piattaforma simulata in questo caso entriamo nella nostra piattaforma simulata vado ad inserire quelle che sono le mie credenziali d'accesso ma dimenticavo cliccando su altre opzioni ecco qua che ci si apre tutto il pannello dove noi possiamo scegliere la versione della piattaforma tra stable latest e beta possiamo andare a cliccare su applicare via qualora volessimo cambiare quella che è la nostra versione perché dovrà essere riscaricata andiamo a scegliere il nostro tema colore quindi dark se preferiamo un tema più scuro classico se preferiamo il setup classico di interactive brokers o light un setup chiaro quindi molto più leggero andiamo a selezionare la lingua l'area di residenza qui possiamo impostare diversi fusi orari e andiamo poi a cliccare su accesso trading simulato in modo tale da entrare nel nostro account l'account che abbiamo appena creato attendiamo che vengano recuperate quelle che sono le nostre impostazioni principali o nel caso in cui fosse il vostro primo accesso alla piattaforma che vengano create comunque tutte le istanze che vi permetteranno di accedere a tutti gli strumenti di interactive e una volta che si aprirà la piattaforma la prima cosa da fare è quella di andare ad importare quelli che sono i settaggi che abbiamo appena scaricato dal nostro sito quindi aspettiamo che si apra schermo intero e andiamo a cliccare su file recupero impostazioni clicchiamo su personalizzato e andiamo a ricercare la cartella di destinazione del nostro download in questo caso io vado in download prendo tvs underscore settings underscore 2020 e vado ad aprire il nostro settaggio selezionando apri senza segnalare il problema in modo tale che anche nel caso in cui avessimo diversi dispositivi diversi setup tecnologici il software si apre senza riportare nessun tipo di problema una delle domande più frequenti che ci sono arrivate in merito all'utilizzo della piattaforma demo è quella relativa al diciamo portafoglio quindi qua ci sono varie schede che noi abbiamo creato per semplificarvi un po l'utilizzo della piattaforma ad esempio in commodity spread vi abbiamo messo delle intestazioni di gruppo dove vi riportiamo tutti i codici per i vari mesi per le varie scadenze così da facilitarvi anche l'utilizzo con alfa for charts vi ricordo che qui in descrizione potrete trovare anche quella che è diciamo il link per la prova gratuita ad un software stagionale fantastico che vi consiglio di scaricare di provare di mettere subito alla prova se dovessimo entrare nella scheda portafoglio possiamo trovare questi interactive advisor che cosa sono è una partizione come ci dice questo bellissimo pop up è una partizione che noi possiamo dare al nostro conto reale non ci trovo realmente a un grossissimo senso in quanto siamo qua per imparare a gestire in maniera autonoma i nostri risparmi ma è un esempio diciamo di una partizione del conto gestita da uno dei 250 consulenti che potrete scegliere all'interno dell'investors marketplace di interactive brokers e purtroppo in piattaforma demo questo non si può togliere quindi nel momento in cui andiamo anche a modificare quello che è l'importo della nostra piattaforma simulata e lo trovate nello step 5 della della nostra guida quindi imposta la liquidità della piattaforma in base al capitale che vorreste investire davvero per rendere l'esperienza più reale possibile vi lascio questo mio bellissimo video potrete andare poi a diciamo fare una cernita di quelle che sono le vostre operazioni o dal rendiconto e vi mando al video che verrà pubblicato la settimana prossima all'interno del nostro canale youtube oppure all'interno della finestra conto dove in strategia piuttosto che selezionare tutti e quindi avere anche la partizione del conto gestita dai consulenti di interactive i miei investimenti in modo tale da avere un'estrema pulizia di quello che è il nostro conto simulato e poter tenere nel miglior modo sotto controllo quelli che sono tutti i nostri parametri quindi valore di mercato saldi fx reali importantissimi per la gestione della liquidità e delle valute della diversificazione all'interno del nostro conto e qui in portafoglio tutte quelle che sono le strategie che vogliamo mantenere all'interno della nostra piattaforma un'altra cosa importante è quella di andare a sistemare anche la scheda portafoglio che purtroppo non mantiene con i nostri settaggi viene sempre modificata a meno che abbiate un conto reale allora vi si apre come dio comanda in questo caso vado a selezionare col tasto destro su una qualsiasi colonna ad esempio su ask, su bid, su una qualsiasi colonna e vado a cliccare con il tasto sinistro questa volta su personalizza layout per aprire questa bellissima finestra che mi permette di modificare tutte le colonne e di ricercare tra le colonne disponibili con questo filtro in maniera più veloce e più rapida quello che noi vogliamo avere in primo piano sulla nostra scheda portafoglio in questo caso quello che io vado ad eliminare è quantità bid, quantità ask e vado a sistemare in questo modo la mia piattaforma vado ad inserire ultimo ovvero l'ultimo prezzo battuto da un qualsiasi sottostante che ho all'interno del portafoglio vado a mettere poi il bid vado a spostare l'ask posizione quindi quante azioni o quanti contratti futures ho all'interno del mio portafoglio il prezzo medio ovvero il prezzo di ingresso valore di mercato importante qualora aveste anche diciamo più valuta all'interno del proprio conto per avere subito una rapida overview di come sono disposte profit and loss giornaliero non indispensabile preferisco in posizione profit and loss all'interno del mio portafoglio inserire il profit and loss realizzato e non realizzato e vado a spostare sopra bid e ask modifiche e variazioni in percentuale che così una volta che io apro il mio portafoglio e ad esempio ho all'interno dei miei investimenti un qualsiasi titolo ho subito il suo ultimo prezzo battuto il prezzo bid il prezzo ask la modifica in punti rispetto alla chiusura del giorno precedente e la modifica in percentuale rispetto alla chiusura del giorno precedente posizioni coin carico il prezzo di acquisto il valore di mercato e i miei profit and loss sia il giornaliero il non realizzato e il profit and loss realizzato importantissima poi avere la dashboard del trader sempre in funzione nel caso in cui non la visualizzaste quindi aprite i nostri settaggi vi si presentano in questo modo vi basterà andare su visualizza dashboard del trader se l'aveste già spuntata basta togliere la spunta e rimettere la spunta come quando le cose non funzionano basta staccare e riattaccare la corrente si sistema tutto e un'ultima cosa che non viene mantenuta dai nostri settaggi è la combinazione quindi quello strumento che ci permette di creare le bellissime strategie che vediamo ogni giorno in spread trading su materie prime dal nostro top trader Matteo Anelli o su azioni, obbligazioni, indici e tantissimi altri strumenti dal nostro Paolo Zambarbieri andando quindi su questa freccettina con il tasto sinistro nella voce clicca per accedere a elementi disabilitati troveremo qui combinazione non la troveremo poi subito nella barra degli strumenti ma cliccando su aggiungi altri pulsanti possiamo andare a selezionare nuovamente combinazione e ci verrà caricata qui all'interno della nostra barra anche per oggi è tutto vi rinnovo di nuovo l'invito per diciamo inviarci le vostre domande a traderschiocciolalfaforall.com per sostenere questa iniziativa e fare tante altre belle sessioni come queste ripasso la parola alla regia alla prossima alla prossima Grazie a tutti.